Salve a tutti, io sono Francesca e oggi vi spiegherò questa collezione di pilot. Qui ci sono tutte le pilot cancellabili esistenti al mondo. Iniziamo da sopra. Questa è una penna a punto 0.7. Ci sono molti colori come l'azzurro, giallo e ci sono anche altri colori nuovi come quelli brillanti, quelli fluo, quelli pastello. Queste sono le penne clicker, che sono quelle a scatto, che sono sempre a punto 0.7. Di qui è uscito questo colore che è nuovo, è una specie di blu scuro ed è davvero bello. Queste sono le penne usa e getta e sono clear, sempre nei colori più venduti, di cui sono usciti quelli nuovi che sono pastello. Qui invece ci sono queste, che sono come le penne col tappo, le prime che vi ho fatto vedere, le friction ball, ma sono un po' più diverse perché hanno la punta più fina, 0.5. Di cui, un'altra cosa che le distingue è il corpo più trasparente e dalla punta in bianco. Qui ci sono questa e una nuova novità. E questi sono i pennarelli, nuovissimi, che sono sempre cancellabili e hanno la punta a fibra. Questi sono evidenziatori e sono nuovi perché sono pastello, che come vedete sono davvero belli. Questo contenitore, barra portapenne, può essere anche usato per le scrivanie, mettendo il tappo qua, attaccato qui, e mettendolo così. Una particolarità di questo portapenne è che se ne comprate altre 4, e ovviamente quindi ve ne danno 2, si possono attaccare. Come vedete, si possono abbinare alle scrivanie. Così. E come ultimo, come ultimo vi farò vedere l'ultimissima cosa che c'è arrivata, che sono pennarelli a spirito cancellabili. Che sono queste. Bene, questo è tutto, vi do un saluto. Ciao! Ciao!